Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Neverwinter Eravamo rimasti comunque qui che ci mancava qualche missione da finire Noi adesso ovviamente stiamo andando velocemente a fare missioni Perché? Perché sto cercando di livellare più in fretta possibile Anche perché ragazzi, come in tutti gli MMO, le cose fighe comunque si sbloccano a livello alto Quindi niente, ci mettiamo in groppa al nostro cavallo E andiamo a continuare le prossime missioni Ok, parliamo Ok Completa l'impresa Prendiamo anche questa Accetta Via, veloci come il vento Ok, siamo qui Uccidi orchi genieri Eccolo qua, geniere Mamma mia Via Ok Dai, morite Morite male Tutti quanti Ok Ok, abbiamo finito la missione Completa Completa Fatto Ora l'abbiamo fatte tutte Ok, fatto Viamo Non, non Non, non Non, non Non Ok Io intanto schiaccio tutto così Faccio tutte le missioni che ho preso Eccoli qua Un altro Perfetto Questo Preso Ok Prendo qua un altro Perfetto Quindi qua che mi rimane Uccidi 5 guardiani Ok Ma che sta a fa' questo? Ma sei caduto tutto a posto? Ti sei fatto male? Eccolo qua Ok Oh che bello Completate tutte Uno qui Riprendiamolo Però Parliamo anche con questa Abbiamo finito due Ottimo Abbiamo pure livellato Raga Livello 15 Dai eh E ne accettiamo Oltre due Come ci entro io Qua dentro Devo entrare qua dentro Ok Questo Sigan dungeon Ole Ok Oh che carino Non c'è nulla in giro C'è solamente un selvaggio Ma ammazzavo Quante forze Ma che è? Proviamo questa Ma questa dura Meglio che ce l'anniamo Va Ah è imploso Ottimo Vediamo che Nascondeva Quel bifolco Niente Vabbè Vabbè Prendi tutto E che stava a farlo Ora qua Niente La solo rompe Lurg Blood qualcosa Oh Ok Ok Morto Non ha alquanto senso Questa cosa Non mi ha dato la chiave Volevo andare A sbirciare Nelle altre stanze Va bene Me ne vado Ah no Va sotto Tu vedi Allora non era Il boss Quello Che mi sta a tirare Veramente fai Madonna quanti Beh C'è ma veramente Vai Via Eccala Ma sono tutti uguali questi Uno più brutto Dell'altro Ammazza Fa paura Che ha fatto Fattene un po' Che hai rotto Proprio le scatole Tu Via 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 Schiva Schiva Una bella Un t'ha Un t'ha shottato Sì che t'ha shottato Hai visto T'ha shottato Chiave della caserma Ma sta a fa venire fame Però questi salamine appesi Così Non c'è nient'altro D'interessante Continuiamo a andare avanti Eccala Un altro Sono tutti uguali Cambiano solo I nomi che sono Praticamente Impronunciabili Raga Raffanbrodo Fatti un po' letto Va Questo è più bossuto Però Perché c'ha più vita Degli altri Via Schiva Eh no Non ti devi avvicinare Perché se è brutto Cintura Una cintura Vediamo se qua in giro C'è qualcosa di interessante Ma credo proprio di no Non vedo niente di interessante Quindi apriamo lo scrigno Accetta Oh Ammazziamo questo Ok Obiettivo completato Ok Oh Livello 16 Bella Raga Accetta E accetta Namu Namu Completa Shift Più Uno Ok Raga Sono nel dungeon Con altri giocatori Seguiamoli La R Mi sembra Che curava Ok Guardo le vite Praticamente Da lì Allora Mamma mia Il mio primo dungeon Raga Sto veramente emozionata Non me morite Raga Ok Si è questo Per curarli Ottimo Possiamo li curio tutti Eh Se stanno fermi Ottimo Ok No raga Il mio primo dungeon Sono contentissima Sono emozionatissima Guarda che carini Quanta gente Si è proprio Emozionata Guarda quanto Soffiglio Questi Io sono Aspicata Raga Ma porca Misere Via Via Fammi farlo Comunque Questa è Praticamente Torre del Manto È Un'istanza Che comunque È da fare In gruppo La sola Non poteva Assolutamente Entrare Quindi ho dovuto Mettere in coda E ti trova il gruppo In automatico È veramente carina Sta cosa Che no Dobbiamo stare Solamente Attenti A curare Schipare A spammare Q A tutt'andare Raga Non fa Schiatta Nessuno Devo far Vedere Che sono A brava Chierica Ok Vanno giù Di nuovo Se buttano giù Così Ma non si fanno male Non c'è danno da caduta C'è una puretta Ok Ma crede Ripugnante Pensavo di non riuscire a fare Infatti Volevo stoppare il video Perché ho detto Figurati se a quest'ora Comunque c'è gente che gioca Invece no Regà Sono stata fortunata Perché subito dopo Sono riuscita Comunque Ad entrare Dentro l'istanza Ma che meraviglia Andiamo 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 Mamma mia Che meraviglia Raga Le mappe sono Veramente fantastiche La grafica è Eccezionale Prog Il famelico Ok raga Vabbè L'hanno shottato Che potevo di Comunque Le istanze in gruppo Con altra gente Sono eccezionali Devi riunire il tuo gruppo Prima di combattere Con un boss Ok Ah ecco Raga Qua bisogna Sattenti Bisogna Sattenti Una figata Mi è piaciuto Tantissimo Raga Sai Più avanti Quei livelli Quando saranno Molto più complessi Ma sarà una figata Comunque ragazzi Non sapete quanto mi piaccia Questo fatto Di poter Fare le istanze Con altri player Anche perché Fino adesso Ho fatto un percorso Comunque Completamente da sola Quindi trovare Comunque altra gente Con cui giocare È sempre Una cosa Molto molto carina Oh Siamo tornati Dal nostro sergente Oh Guardate ragazzi Quante missioni Ma ce ne andate un sacco Ma ce ne andate un sacco E quindi niente ragazzi Abbiamo preso un sacco di missioni Dal nostro sergente Che finiremo sicuramente Nel prossimo episodio Se vi è piaciuto il video Mi raccomando ragazzi Spolliciate A più non posso Sostenete comunque la serie Perché Neverwinter Veramente Ne vale la pena Giocarlo Ne vale la pena Creare una bella community Iscrivetevi al mio canale Attivate la campanellina Per non perdervi Nessun nuovo video E live In uscita Seguitemi sui miei canali social E con questo è tutto Alla prossima Ciao ciao Ciao